Amici! Benvenuti nel nostro canale di Mamma Vita e il figlio Gabriele! Ciao! Come avrete visto dalle nostre teste? Cosa c'è sulle nostre teste? Cosa c'è? Le cerchietti! Una zucca dei pipistrelli! E quindi, tema Halloween! E cosa dobbiamo fare oggi? Una zucca! Voi amici l'avete fatta? Una bella zucca? Eh, questa è molto bella e ora dobbiamo tagliarla, dobbiamo fare degli occhi, una bocca e il naso! Poi cosa vuoi fare più? Basta! Perché poi cosa ci mettiamo? Una candelina che abbiamo qui, una candelina Così poi al buio la nostra zucca sarà luminosa e mostruosa! Sei pronto? Sì! Che bella zucca che hai in testa, figlio Capri! È proprio bella questa zucca! Oggi sono tutta arancione! Oggi sono tutta arancione! Oggi sei tutto arancione! Hai visto? Senza farlo apposta sei tutto arancione! Siamo pronti! Per prima cosa, noi abbiamo scelto l'immagine della zucca, anzi, Gabriele, figlio Gabriele, ha scelto l'immagine che è questa! Facciamo vedere! Questa qui! Prendiamo il pennarello e iniziamo a disegnare la nostra zucca! Decidiamo prima quale parte dobbiamo fare! Io direi di disegnare sulla parte più bella, che secondo me è questa! Che dici? Sì! Perché questa qui è un po' rovinata, quindi la facciamo qui! Sì, sì! Ok? Quindi giriamo la nostra zucca dalla parte più bella e iniziamo a disegnare! Eccoci qua! Allora, prima una cosa importante! Dobbiamo ritagliare il... Il cappello della zucca, quindi la parte di sopra! Quindi disegniamo qui... Iniziamo a disegnare! Guardate, amici, come disegniamo il cappello della zucca! E voi siete pronti per Halloween? Io sì! Tu sei pronto? Sì! Noi non vediamo l'ora, dolce... 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 Da quattro giorni arriva Halloween! Quattro giorni? Sì! Solo quattro giorni? Sì! Allora ci siamo quasi! Domani mancano tre giorni! Ora dobbiamo disegnare gli occhi! Ma a scuola avete fatto qualche lavoretto di Halloween? Neanche per sogno, mai! Come neanche per sogno? Ma non l'ho fatto! Non l'avete fatto il lavoretto di Halloween? Davvero? A scuola non lo fanno! Non lo fanno! Ma come! È bellissimo! Ecco che abbiamo fatto il naso! Adesso facciamo la bocca! Quindi vediamo un attimino... Eccoci! Abbiamo disegnato la nostra zucca! Ecco qua! Ecco qua! Ecco qua! Mamma, manca solo un occhio! Forse... Allora prendiamo... Un tovagliolo! Forse il naso... Dobbiamo farlo un po' più su... Qua! Ora dobbiamo iniziare a tagliarla, questa zucca! Uno, due, tre... Siamo pronti? Sì! Sì! Questa è la parte più difficile! Mamma ha tagliato una zucca! Ma neanche mamma ha mai tagliato una zucca! E fai un po' qualche faccia paurosa, vediamo! Questa è proprio paurosa, però, eh! Ecco, amici! Eccoci! Prova ad aprire la zucca! Ma cos'è questa roba qui? Ora dobbiamo pulirla! Allora, prendi questo qui... E dobbiamo pulirlo tutto! Eh sì, perché se no... La zucca... Come si è fatto? Eh sì, toglie così! Guarda! Con il coltello! È certo! Come lo vuoi togliere? Con le mani! Allora, questo lo mettiamo da parte! E questo? E ora dobbiamo pulire anche questo! Quindi, ci sei? Eh, non posso pulire! Vai, tocca! Aspetta, vai! Prendi e metti qui dentro! Pronto? Sì! Vai! Resta! Che stifo! Vai! Vai! Prendi! Vai! Un semino alla volta! Vai! Questa è la prima zucca! Oh! Ti aiuto? Sì! Eccoci qua! E' tutto molto viscido! E' tutto molto viscido! Eccoci qui! Ora abbiamo tagliato la testa della zucca! Che dobbiamo tagliare ora? Dobbiamo tagliare gli occhi, il naso e la bocca! E siamo pronti! Però cosa devono fare i nostri amici prima se non l'hanno ancora fatto? Iscrivetevi al canale e lasciate tanti like! Bravissimo! Iscrivetevi al canale e lasciate tantissimi like! Ora andiamo a tagliare gli occhi della zucca! Che bello! Questo è il primo occhietto che possiamo buttare! Puoi buttare qui! Sì sì! Ora tagliamo l'altro occhietto pauroso! Vediamo! Ecco l'altro occhio! Sei pronto? Sì! Aspetta! Che lo togliamo! Vai prendi! Ecco qua! Oh! 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 Ora tocca al naso! Che piccolino! Che piccolino il naso della zucca! E più mini e buono! Che piccolino il naso della zucca! Sì! E poi i nostri amici ci devono far sapere attraverso il loro mi piace se la zucca è bella! Che dici? Poi dobbiamo pulirla! Meglio! Ok? Così quando mettiamo la candelina si vede bene tutto! Sì! Ecco qua! Quindi il naso l'abbiamo tolto! Ora tocca alla bocca! Che è il pezzo più difficile! Vediamo! Lo ridisegniamo perché si è un po' cancellato! Guardate amici gli occhi! Il naso! Che bisogna pulire un po'! Il nasino di questa zucca! Che dici? Sì! Ho pulito un po' il nasino! Sì! Proprio difficile! È più importante! È più importante! Che buono! Che buono! Così poi possiamo mettere la candelina! Quindi aspettiamo che diventa pulito! E poi mettiamo la candelina! Ok! Così si illuminerà tutta! Nel frattempo ora sai cosa facciamo figlio Gabri? Aspettavolo sì! Continuiamo a pulirla un pochettino all'interno! Va bene? Così sarà perfetta! Amici! Se questo video vi è piaciuto! Iscrivetevi al canale! E lasciate tantissimi like! Ma secondo me qualcosa sta succedendo a questa zucca! Siamo pronti? Sì! Ma tu sei pronto? Sì! Chiudiamo gli occhi! Chiudiamo gli occhi! Oh ma... Non lo apri! Si è uccisa la zucca! Ma che paura questa zucca! Amici! Se volete salvarci da questa zucca spaventosa! Iscrivetevi al canale! E lasciate tanti like! Ciao! Ciao!